Questo è il film di Deuterio E' successo molto tempo fa Quando gli umani e i dinosauri vivevano in armonia Ma un giorno arrivò il fratello gemello malvagio di Dino Vi ammazzerò tutti Distruggerò tutta l'umanità Ho un piano perfetto per distruggere tutto Ho messo una bomba in un cestino come questo E l'ho mascherato come un peperoncino Adesso è camuffato dovrete trovarlo per disinnescarla Altrimenti esploderete tutti quanti Quale di queste sarà Dino? Non lo so io Non sono mica un veggente Non c'è modo Devo provarle tutte e trovare quella giusta Non farlo Deuterio Non sacrificarti Devo Ok Proviamo questo Non è la bomba Perché questo è commestibile Devo passare al prossimo Nemmeno questo è la bomba Rimangono soltanto due Non ce la faccio più Se non è questa Sappi che non riusciremo a salvare nessuno L'ho trovata Oh mio dio Ti sarai sbarazzato della bomba ma Quale dei due sono adesso? Ha 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 Mi sono scambiato con mio fratello Non mi troverai mai Ha 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 Ah dannato ti ho preso E adesso non puoi più fare niente Aspetta aspetta Che ne dici di deciderlo In una sfida? Pokemon va bene che posso scegliere vediamo che squadra mi metto scegli i leggendari sei sicuro sì non è illegale no inizia la sfida vinto adesso hai perso vieni qua aspetta ventura a te dino la presina da forno e grazie a loro si festeggia fine se non mettete un cazzo di like a questo video io mi cazzo perché ci ho messo due anni sapete che è impossibile registrare con una mano due cazzo di pupazzi che devi avere due mani e poi devi anche registrare e vaffan cura dov'acchino dov'acchino a lo sient'os vai copyright copyright io so che arriverai oh my god ragazzi grazie 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 grazie